Per qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Per la sua esperienza si è particolarmente risentito mercoledì quando la sua esecuzione è stata indebitamente accelerata dal pubblico Arte da poco Per la sua esperienza si sia particolarmenteice I my creatures Per le sue Distinguire i miei vengono Perti come me Verrà Prima E' un bel'egra E' un bel'egra Un bel'egra Dio Un altro scherzo Voleva la pena di morire per questo! Fermati, tuo destino è segnato! Dannazione! 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 Continuiamo! Grazie per la visione!